Ma come si fa ad aiutare una persona in tempi brevi? Questo è il problema. E questa è anche la domanda che si possono porre tanti psicologi, sia le prime armi che navigati. Infatti, se trovati i primi sono giustamente alla ricerca di metodi, linee guida che le aiutino a un complesso lavoro di tradurre in pratica quanto ha studiato, i secondi possono trovarsi non di rato di fronte a situazioni in cui, di seduta in seduta, non si riesce a sbloccare la situazione. E allora la domanda è... che faccio? In proposito, un costrutto teorico molto interessante è quello che ci ha regalato John Wickland, assieme agli altri membri del Mental Research Institute come Paul Vazalic e Richard Fisk, parlando dei tentativi di soluzione che non funzionano, generalmente note come tentare soluzioni disfunzionali. L'approccio che ebbero a me piace tantissimo perché fu molto antropologico, praticamente semplicemente osservando ciò che le persone fanno di fronte a un problema che non riescono a risolvere, si resero conto che questi adottano una serie di comportamenti in modo circolare, continuativo. Questi comportamenti sono dei tentativi di affrontare, rispondere, gestire o risolvere il problema, che però non funzionano, cioè di fatto non aiutano la persona a risolvere il problema, anzi o lo mantengono in vita o lo peggiorano o ne creano uno nuovo. Per fare degli esempi, immagina che di fronte a una difficoltà d'erezione del marito, la moglie mostra una qualche forma di disappunto. Questo comportamento è la sua risposta al problema del marito, messa in atto forse come una sorta di magari incitazione della serie ti dimproverò finché tu non sbagli più. Però può finire in realtà per produrre l'effetto contrario. L'uomo potrebbe agitarsi e mantenere le difficoltà d'erezione, o potrebbe al contrario sforzarsi di più di ottenere una condizione fisica che invece dovrebbe essere spontanea e naturale. Oppure immagina la persona che di fronte alla fine di una relazione o a un improvviso licenziamento reagisce con un'iniziale risposta di chiusura al mondo e agli altri. Questa chiusura di per sé potrebbe avere uno scopo protettivo in un certo senso, però se è prolungata, se è perpetuata, non fa altro che diminuire i contatti sociali tra persone, momenti di piacere e di svago, le possibilità di incontrare nuovi partner o di proporsi per nuovi lavori. Paradossalmente proprio la sua chiusura protettiva contribuisce da un lato a ridurre la possibilità di andare incontro a nuovi stimoli che gli facciano coltivare nuove energie e che aumentino la fiducia nelle proprie capacità, e dall'altro contribuisce a lasciarlo così scivolare verso quella fossa che chiamiamo depressione. Quindi abbiamo una serie di comportamenti che mettiamo in atto per risolvere un problema, ma che in realtà non lo stanno risolvendo affatto. Anzi, la domanda diventa che faccio in questi casi? E la risposta in realtà è semplice, si bloccano le soluzioni della persona. Quindi ovviamente l'idea è vado a identificare e a bloccare le soluzioni disfunzionali, quindi che non stanno funzionando e che la persona sta mettendo in atto. In pratica uno dei modi per aiutare la persona in tempi brevi è quello di bloccare le sue tentate soluzioni disfunzionali, inducendola a rendersi conto di che cosa non sta funzionando perché così smetterà di perpetuarlo e di sostituire quei comportamenti con altri più produttivi. Questo, se ci pensi, non fa altro che interrompere il circolo vizioso. Immagina ad esempio una persona che ha paura di avere un brutto male, una cosa che potrebbe cominciare a fare sarà a monitorare il proprio corpo o alla ricerca di segnali che gli dicano se c'è qualcosa che non va. E dato che chi cerca trova finirà per interpretare qualunque sensazione corporea come la conferma dei suoi timori. Ora, se tu chiedi alla persona di interrompere questo costante monitoraggio, puoi portarla a ridurre il costante ascolto del suo corpo, in questo modo puoi ridimensionare anche le sue ansie. Questi ovviamente sono degli esempi, ne potremmo fare diverso, però penso che ti rendono un pochino l'idea. Detto questo, ci sono tanti modi per bloccare le soluzioni tentate, io ti ho descritto quasi esclusivamente dei modi diretti, cioè di chiedere direttamente alla persona di smettere di fare un determinato comportamento. In realtà, al Mental Research Institute, da cui è nata per esempio la terapia strategica, che è uno degli approcci che insegniamo anche nella nostra scuola di specializzazione dell'Istituto Icnos, ce ne sono almeno altri due di metodi, i metodi indiretti e i metodi paradossali. Però a spiegarli è troppo complicato, quindi magari ci facciamo un video a parte. Comunque sia, quello che puoi fare durante una seduta allora è indagare quali siano tutte le cose che la persona sta facendo per reagire, affrontare, risolvere, rispondere al proprio problema e che però non la stanno aiutando. A quel punto puoi provare a chiederle di interromperle o a trovare con lei dei comportamenti alternativi da mettere in atto. O naturalmente considera sempre che questo è un costruttore teorico, lo puoi utilizzare, però si posiziona particolarmente bene all'interno dell'approccio strategico, quindi se vuoi approfondire ti consiglio libri come Change, Le tattiche del cambiamento, Cambiare i mutabili, L'arte del cambiamento, e così via. In ogni caso, l'idea di indagare cosa la persona stia facendo per mantenere il problema e aiutarla a bloccare o sostituire quel comportamento, può in generale liberarsi una buona soluzione.